Però ora effettivamente dobbiamo capire come fare il tutto, quindi in soldone abbiamo capito comunque in parte la nostra esistenza, questo nostro essere Simon Jarrett all'interno di un robot. C'è qualcosa? Di là sembra esserci qualcosa. Io vorrei anche andare oltre questa porta, vorrei capire. Ma sembra che non si può. Dovremmo cercare il cifrario di sicurezza ma... Proviamo a tornare indietro. Non preoccupare, vi prenderò. Teta, tutti i sistemi operativi, scafo di vestimento secondario intatto, comporto vitale, ok qua funziona tutto, mappa. C'è comunque poco utile perché non ce la possiamo portare dietro, quindi... Non ci serve. Stato... Disperso, 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 deceduto, ma saranno probabilmente tutti morti comunque. I terminali in mio laboratorio hanno perduto la connessione con la mainframe. Andiamo a stasera e resettare la ruota. Dobbiamo scendere da qui sotto. Ok, magari qui possiamo effettivamente capire come... ...di sotto. Allora, livello principale. Livello 1, livello 2. Ok. Beh, il tutto comunque sembra andare sempre dalla parte opposta, quindi... Ok, allora, ritorniamo di qua. Anche perché mi sembra che qui non ci sia niente. Ah no, qua c'è una porta. Ah, effettivamente sembra... ...si possa scendere di qua. Ok, allora di qua. Scendiamo. E andiamo dove ci diceva. Chi urla atroci. Eh, allora è come dell'equipaggio che si è trasformato ed è successo qualcosa. Qua ci sono tanti server. Ehm, no. Qua ci sono tanti server. Ehm, no. C'è... c'è qualcosa, penso. Sento qualcosa. Cammina. Cammina. E allora... Vado... E' qui dietro. Io la sorpasso in scioltezza. Non voglio nemmeno vedere che creatura sia. Ok, lì c'è qualcosa. Speriamo che non faccia rumore qualsiasi cosa da toccare. Eh, io nel frattempo mi nascondo perché... ...magari fa rumore e viene di qua quella cosa. E infatti si è mossa. Si sta muovendo. Eccolo. Eccolo. Meglio non guardarla e non stargli vicino. Oh, madonna cos'è? Mamma mia cos'è? E... non ha braccia. E' una sorta di ammasso che... ...non saprei definire. Forse perché appunto senti il tick del... ...del computer. Quindi ce l'ho fatta. Brutter attivo. Mainframe online. Quindi adesso devo andare via. Adesso devo andare via, devo tornare indietro. Devo fare in modo di attivare il... ...il chip. E io quando esco... ...chiudo anche la porta. Metti in caso che magari mi segua. Ok, sarò anche abbastanza lontano quindi posso andare via. E chiudi, 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 chiudi. Ok. Non si sa mai. Il mainframe è online quindi... ...sema che possiamo tornare indietro e... Ah, ok. Ok, lo lasciamo lì. Fa dei suoni atroci tra l'altro. Vediamo... ...di comprendere altro. E chiudi un po'. E chiudi un po'. Oh no, non voglio scenderci più. No, no, no. Per niente. Mi inquieta troppo quella cosa. Eccomi. Siamo cercando di usare una simulazione sul chip che hai trovato. Alguien deve sapere il cifero. Eh, va bene. Quindi dovrei andare. Per attivare il... ...il dispositivo. Avvena simulazione sul chip che hai trovato. Ma da dove, Catherine? Avvena simulazione dal chip che hai trovato. Ok, innanzitutto accendi, che magari è meglio, no? Siamo più tranquilli. Ah no, forse devo ritornare nell'altra stanza dove c'era il computer. Ah, dove devo... è vero, giusto, devo andare dove c'era il chip. Giusto, giusto. E che girando tanto queste cose... Ecco, sicuramente sto andando dalla parte sbagliata. Se infatti non era di qua, mi pare. Ok, ritorniamo indietro. Andare... qua. No. Ok, è giusto. Ok, era qui. Ok, era qui. Ok, vediamo se adesso va. Perfetto. Dovrebbe essere una lista di persone. Vediamo se c'è qualcuno che potrebbe sapere una cifra di sicurezza. Dobbiamo andare a caso o magari c'è nelle informazioni. DualSara, neurodiagramma di Nakajima compreso, 7 luglio 2103. Ha detto che avrebbe aiutato a portare a Terme... Suicida a causa della continuità, ma... Sorahime su tutte le furie ha dato un giro di vita o sorveglianza per il giro arco sospeso. Profogo di Delta, ma nel anno di costruzione o lavoro per Sronheimer. Quindi Brandon Umam potrebbe essere quel robot che è in giro. È nato il suicidio per la continuità. Cazzo. L'ho tagliato fuori dal laboratorio. Siamo davvero se non altro, saremmo stati grandi amiche. Mi ha aiutato a ridurre le dispersioni elettromagnetiche del casco. Se non altro, dovrebbe ridurre il fastidio. Sione. Sarebbe stato allegro e divertito come al solito. Al solito. Che avrebbe aiutato così le arche, ma hanno andato a asportare Fii. Quindi, può essere questo? Vediamo se ci abbiamo preso. Qualcuno del gruppo di sicurezza. Allora... Scusa. Vabbè, tanto in realtà basta provarle tutte, quindi... In realtà basta provarli tutti, quindi... In realtà... Sì, scusami. Sicurezza. Non c'è nessun riferimento alla sicurezza. Però vabbè, li provo tutti, facciamo così. Non c'è nessun riferimento alla sicurezza. Non c'è nessun riferimento alla sicurezza. Non c'è nessun riferimento alla sicurezza. No, non c'è nessun riferimento alla sicurezza. Stromae ha ricruito persone dagli strumenti evacuati. Dei siti evacuati. Allora può essere il profugo, scusa? È lui può essere, allora. Ah, infatti. Era il profugo. Va bene? Ok. Questa era Brandon. Brandon. Usa il computer. Esegui. Quindi... Ecco, questo è il momento in cui è successo tutto. Questo è come è più o meno successo a noi, eh? No, 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 no. Perché stai facendo questo? Dimite di essere il suo gesto superato e arrossi in corso. Vediamo che non abbiamo capito la vita? Direi che è un perfetto scan, è il vero. È quello vero. Eh sì. Io davvero pensavo che questo sia funzionato. Possiamo provare di nuovo. Sempre con lui? No, sembra lo stesso dialogo di prima Quindi magari dobbiamo provare con un'altra persona Immaginavo Moduli ambiente non possiamo cambiarlo Quindi non possiamo comunque fare niente Perché non possiamo cambiare le impostazioni Ah, quindi solo per forza su di lui Ma il problema è che se non possiamo cambiare le impostazioni Non possiamo fare niente Non ci dirà quello che ci serve Eh, come le possiamo cambiare allora queste impostazioni Oh, aspetta, aspetta, aspetta C'è qualcosa qui Vedi che magari questo ci serve No Eh, però mi sembra di aver trovato qualcosa di interessante Non posso sapere cosa sia Cavoli, me la porto dietro e non posso saperlo Scansini in programma Ma ci serve poco a sapere questa roba qui Perché non possiamo comunque cambiare le impostazioni All'interno del software Finché le impostazioni rimangono bloccate Noi non possiamo fare niente Dobbiamo cercare un modo di cambiarle Cancello tutto, non si sa mai Ok, ora sembra che non ci sia più niente Oh, abbiamo aggiunto qualcosa Forse abbiamo ottenuto delle impostazioni Oh, infatti Proviamo nella spiaggia Magari è più tranquillo That wasn't so bad This robot really got hurted up Bastard What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Just be calm Take a deep breath and Enjoy the scenery for a moment Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here There's no one here It's empty It's too empty There's something really wrong with this place It's not real This isn't real I have to get out of here No, I have to get out of here Can we just keep him alive Until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model The more he'll get hung up on it So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane So let's keep the session short And the suffering to a minimum That wasn't so bad I'm sure if I really got me worked up Bastard What? What is this? But lui non vede Quindi dobbiamo caricare un'altra cosa Che gli permette di vedere Dr. Chen? What the hell is this place? I need a favor I need to know what the new cipher is Why are you doing this? Is there some trick? I'm not giving you anything Please, we really need that cipher No, you're lying This is all a lie Look at this place, it's a fucking joke Get out of here, Chenro I'll punch your teeth Niente I think we need to build the scene So it's more what he'd expect As soon as he starts to doubt We've lost him You're right We need to think about this We need some more data Ci servono più dati Ok, quindi devo in qualche modo Cercare Dei Altri chip Il problema è che qui non ce n'era nessuno L'avevo già controllato Aspettate, magari Troviamo qualcosa qui No? No Niente neanche qui Niente neanche qui Eh, ci servono altri chip Come questo che abbiamo trovato Per aggiungerli Nella Una sorta di No, non è questo Il terzo blocco Però magari staccando questo Mettendoci l'altro Il problema è che Dove lo vado a trovare Un altro chip di questo tipo Buongiorno a trovare un altro chip di questo tipo